Ciao ragazze, eccomi tornati in un nuovo video, questo mese ci vediamo due volte perché questo mese, come sapete, c'è stato il Black Friday, anzi è tuttora in vigore il Black Friday sul sito di Passione Unghie e io ho deciso di fare l'ordine proprio il primo giorno che hanno presentato il tutto, sia venerdì scorso e ho fatto un qualche acquisto, sapete che non resisto, che devo sempre comprare qualcosa per le offerte, sia per le offerte del mese che in questo caso per il Black Friday, quest'anno a differenza dell'anno scorso, se mi ricordo bene, il Black Friday dura praticamente una settimana mentre l'anno scorso mi sa che durava soltanto il giorno, il 23, mi pare il 22, che giorno era, non mi ricordo di novembre l'anno scorso quest'anno l'hanno fatta durare tutta la settimana prima di iniziare a farvi vedere i miei acquisti, mi volevo scusare con voi per le mani indecenti ma ormai devo rifarle, sono un po' incasinata e quindi non riesco a essere sempre puntuale con l'appuntamento, insomma con il refill faccio sempre un po' di fatica e quindi niente, vedete una l'ho dovuta risistemare che era quell'unghia che vi dicevo su Instagram, che ne parlavamo insieme altre hanno un po' di ricrescita, alcune me le sono un po' smagnucchiate quindi insomma, cose da refill, ecco io però direi di iniziare subito e non ho acquistato tantissimo però ho preso qualche pezzo interessante e devo dire che gli sconti mi hanno abbastanza soddisfatta diciamo così allora, per iniziare vi faccio vedere subito il primo acquisto ho deciso di acquistare la Rose Gold Carbide Flame questa punta per smontare il gel in fase di refill io l'avevo già acquistata tempo fa, mi ero trovata molto bene poi ho deciso di cambiare e provarne un'altra ho preso quella blu, la Flame Blue e però devo dire che questa è un po' più abrasiva della Flame Blue mi dura anche forse un pelino più tempo quindi ho deciso di riacquistarla e mi sono trovata già tempo fa molto molto bene non mi ricordo adesso con precisione il prezzo però comunque si aggirava intorno agli 11 euro invece che 18 mi pare 11 euro quindi un ottimo prezzo e lo sconto insomma era abbastanza buono ho acquistato sapete che c'erano le basi e i lucidi in offerta allora le basi HD io non le utilizzo perché sapete che non tratto praticamente quasi mai il semi permanente a parte delle piccole eccezioni quindi mi sono buttata sui lucidi e come non potevo non acquistare il mitico Aquagloss ho fatto scorta e ne ho presi due uno e uno due Aquagloss è il mio lucido preferito ricevo quotidianamente vi giuro quotidianamente domande del tipo che il lucido di passione unghie ami preferisci Aquagloss ho fatto scorta e ne ho acquistate due confezioni perché veramente non riesco a farne a meno ho notato che questo lucido è perfetto da stendere anche per sigillare le polveri con questo lucido ragazzi andate tranquille che non si sbeccheranno le vostre polveri ovviamente sigillate a dovere è veramente ottimo io tra le cose in offerta ho acquistato delle cose che mi servivano e che non facevano parte né del Black Friday né delle offerte di novembre ve le mostro comunque allora visto che il Baby Boomer spopola di tutti i colori ancora tra le mie clienti lo adorano io non lo sopporto più però le clienti lo amano ho ricomprato le spugnette per fare la Baby Boomer o le sfumature in generale ho poi riacquistato questi glitter che sono i Melody se mi seguite da un po' sapete che questi sono i miei glitter preferiti li trovo fantastici soprattutto per Natale hanno una base trasparente con un riflesso in base a dove la mettete o dorato o bluastro e creano veramente dei giochi di luce molto belli per il periodo di Natale io li strauso infatti li ho acquistati perché erano quasi finiti li utilizzo tantissimo da andare a mettere sopra i colori oppure sopra il bianco fa un effetto tipo ghiaccio stupendo un po' soprattutto sono come i colori questi sono i glitter jolly che vanno su tutti poi a fine mese anzi no a metà mese dopo che era uscito le offerte di Passione Unghie del mese quindi dopo i primi di novembre dopo una settimana ovviamente cosa hanno pensato di far uscire la polvere Chrome Rose Gold c'è ragazzi una bomba con la polvere ho detto non so fare un altro ordine che poi a novembre ne faccio un altro per il Black Friday faccio due ordini quando ordino per il Black Friday compro anche la polvere Chrome Rose Gold ovviamente ma che ve lo dico a fare questa benedetta polvere era già esaurita quando hanno messo le offerte venerdì per il Black Friday quindi niente mi sono arrangiata non l'ho potuta acquistare ho ripiegato sulla polvere Purple la Gold sta già riscuotendo tantissimo successo tra le clienti piace tantissimo e penso che la finirò nel giro del periodo di Natale l'andrò a finire perché la amano tutte è veramente bellissima e vi dirò una cosa l'ho già fatta è molto molto bella quindi ho deciso di acquistare anche la Purple come sempre vi mostro l'omaggio questa volta mi hanno mandato lo stesso omaggio per due volte consecutive sia per i primi di novembre che adesso quindi l'omaggio è sempre lo stesso questi glitter turchesi li utilizzeremo in estate e ora veniamo alle cose un pochino più sostanziose ossia i costruttori allora molti di voi mi hanno chiesto già qualche tempo fa se avevo provato Frozen Pink e come mi ero trovata in realtà ragazzi non l'avevo provato non l'avevo acquistato e mi sono decisa ora ad acquistarlo quindi ho comprato una confezione da 50 ml di Frozen Pink voglio provarlo assolutamente e darvi la mia recensione a riguardo perché noto pareri molto molto contrastanti quindi non vedo l'ora di metterlo alla prova e poi vi farò un video dedicato quindi ho preso Frozen Pink per quanto riguarda i costruttori e poi sono uscite per questo mese quindi per le offerte del Black Friday i costruttori da 100 ml fantastici per chi lavora tanto e lo fa per mestiere insomma sono un gran risparmio anche economico perché mi pare che il flacone da 100 ml venisse sui 36 euro quindi un ottimo prezzo ho deciso di acquistare Natural Builder perché sapete la mia passione per Natural ho deciso di acquistare lui al posto del Pinky Builder perché non lo uso praticamente mai Pinky Builder non è uno di quei gel che mi piacciono né come colorazione né come formulazione più di tanto quindi Natural Builder il flacone nuovo opaco penso che sia molto bello però io penso non lo questo è il primo che mi arriva quindi soltanto un'impressione a caldo sul prodotto però penso che sarà poco poco pratico nel senso che l'opaco il nero soprattutto tende a sporcarsi immediatamente penso che questi flaconi si rovineranno nel giro di una settimana almeno in mano mia ho acquistato quindi Natural Builder ed è il super flacone qua è un po' uscito vabbè poco male super flacone da 100 ml ho poi acquistato qualche colorino allora qualche due non avevo bisogno altri erano in offerta insomma un po' mix ne ho presi quattro allora partiamo da dal Magic Blue Magic Blue erano usciti dalla produzione comunque non erano più disponibili poi finalmente all'inizio di novembre li hanno rimessi disponibili quindi ho acquistato Magic Blue che ha cambiato nome da A92 diventato A920 penso che sia cambiata la formulazione adesso non avevo visto la diretta dei primi di novembre però ho riacquistato lui che è il mio preferito io vedete me li etichetto tutti ci metto sopra lo scotch così almeno l'etichetta non si rovina e rimangono lì buoni buoni ho poi acquistato mitico Poison Black F16 questo mi serve sempre per qualsiasi cosa sia per monocolori decorazioni il classico sapete il nero ha sempre il suo perché e ci vuole sempre e adesso veniamo ai due colori che ho preso novità G80 shimmer che è una novità assoluta F44 incantesimo era in offertissima 1,90 euro 1,30 euro non ricordo allora parliamo di G80 shimmer è un gel glitterato quindi sono glitter in gel trasparente però quando l'ho visto nella diretta diciamo che mi ha colpito subito perché questo gel non è nient'altro che un oro insieme a del platino insieme a del lilla e l'accoppiata secondo me vince è una accoppiata vincente questi glitter mi piacciono tantissimo tanto che penso che andrò a farmi le mani per il refill assolutamente con questo colore adesso vediamo se farlo sfumato o fare un monocolore intero diretto con questo colore mi piace molto questo è perfetto per questa stagione un po' di transizione che non è né autunnale né natalizia penso che questo sia una giusta via di mezzo per avvicinarsi piano piano al natale ho poi acquistato incantesimo f44 questo solo perché era in offerta non mi fa impazzire però penso dell'idea che i glitter servono sempre le clienti amano i glitter quindi compriamone di tanti colori questo è un glitter sottile un multicolor sembra un po' un color carnevale io lo definisco ha tanti glitter colorati di tante tonalità diverse insieme a del glitter argento e quasi nero penso perché è molto scuro poi steso sull'unghia con due mani risulta abbastanza coprente però ecco non è tra i miei glitter preferiti ok ragazze con questo era tutto vi ho fatto vedere tutti i miei acquisti per il black friday so che non sono stati tantissimi è anche vero che avevo fatto un acquisto i primi di novembre quindi non volevo esagerare troppo è anche vero che forse mi sarei ma non voglio dire aspettata però pensavo che avessero messo più gel costruttori in offerta come l'anno scorso in ogni caso sono molto contenta del flacone da 100 ml di natural e sono molto curiosa di provare frozen quindi vi terrò aggiornate per questo prodotto con questo è tutto ragazze io ho finito fatemi sapere voi cosa avete acquistato se vi sono piaciute queste offerte ho sentito già alcune di voi su instagram e mi hanno detto che sono rimasta un po' deluse a proposito di instagram vi invito a seguirmi vi metto qua in sovraimpressione il nickname e giù nell'info box avete il link diretto all'account con questo è tutto se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un bel mi piace a supportarmi quindi se vi va iscrivetevi al canale vi mando un grosso bacio e ci vediamo prestissimo in un prossimo video ciao ragazze